inizia il girone di ritorno del massimo campionato di hockey perde la pallina no non è in pista ci sono barbieri giulia diogo nevesce scuccato e ora c'è il fallo di dei nitte che costa il blu e l'occasione fallo in attacco proprio dove non ce n'è mai bisogno ecco il via di rago cuglia segna cuglia 0 a 1 la l'errore di dei nitte costa il vantaggio al 19 36 di cuglia chiamiru mi ha recuperato borsi cerca il vertugio e il pareggio e fesda 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 che fantástico sergio veste sergio veste sera festa sergio veste per fertito con del pills finitoatchingo serve fatta gol festa è fantasticaEveryman pastor quello vesco cer aula place servus besta situo due secondi e gol l'avete ancora di festa che è fantastica Sergio Mesta Sergio Mesta Sergio Mesta fiesta incredibile fiesta sono dei problemi nel circuito internazionale scogna amiglio e c'è il gol il gol ancora Sergio Mesta ancora Sergio Mesta e giocare con questo tipo di incitamento è molto meglio c'è il blu a festa dell'aitante barbarisi una decisione sicuramente discutibile Cuglià contro Corona va Cuglià va Cuglià Corona 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 adesso c'è il power play power play Bassano che poi scarica in qualche modo Shaviru e blu anche per il giallo blu rosso blu anche blu anche per panizza e quindi vedi che nell'hockey torna tutto perché a un minuto dopo al 10 e 36 c'è l'opportunità Sarzana dal via barbarisi va Shavi 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 e la parata di Dalmonte poi ancora Shavi ora comunque c'è parità numerica apparato divinamente grande Mauro Dalmonte bisogna riconoscere la parata stupenda dell'estremo difensore del Bassano attenzione perché poi c'è De Rinaldi suoi rigore 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 Borsi contro Dalmonte Borsi e gol e Borsi 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 e Borsi 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 brava Borsi la palla serata Tantagodi Dancio 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 la campana Dancio 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 la campana Dolce 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 al 14 50 incredibile Dictu Viso Audito Dictu Viso Audito 9 minuti e 17 prova poi alla fine FESA la deviazione aveva anche il 6 a 1 di Dolce 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 no Gabbana Dolce 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 no Gabbana Dolce 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 no Gabbana incredibile Dictu Viso audito 6 a 1 Panizza Diogo Neves e assegna Diogo Neves il gol di Diogo Neves al diciotto e venti e trentadue Xavi Rubio Xavi va via Verinaldi Xavi Rubio Xavi Rubio a gol Xavi Rubio a gol Xavi Rubio ha fatto gol Xavi Rubio a gol Xavi Rubio a gol Xavi Rubio ha fatto gol Xavi Rubio a gol Xavi Rubio ha fatto gol signore e signori amici dell'hockey al 21.03 che sbroglia poi Xavi Rubio attenzione a Xavi Xavi Rubio a gol Xavi Rubio il bastardo ballato e Xavi Rubio Xavi Rubio Xavi Rubio Xavi Rubio al 22 al 22 e 51 incredibile 22 e 51 8 a 2 Xavi dice di no dal monte al nono gol 55 secondi ma c'è il decimo fallo ma c'è il decimo fallo ancora festa contro dal monte festa 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 è festa veramente una festa 9 a 2 incredibile 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 Sardana che batte 9 a 2 sul Bassano incredibile Sardana batte Bassano 9 a 2 una vittoria che più meritata non si può perché veramente è stato un match straordinario straordinario un saluto a tutti gli amici dell'hockey a tutti